in questo episodio come promesso andiamo a cercare di fare la farm di grano allora per eseguire la farm di grano è molto molto semplice io la faccio in nel modo che praticamente noi clicchiamo un pulsante o una leva e toglie l'acqua poi clicchiamo un altro pulsante stesso e toglie l'acqua e poi noi dobbiamo andare noi stessi a ripiantare sempre i semini e basta allora come prima cosa andiamo a fare andiamo a craftare le come si chiamano serve un blocco e vediamo come si chiamano e non ricordo il nome quindi vediamo ecco le si chiamano botole vabbè botola di betulla al momento due ne prendiamo quattro al momento ci facciamo bastare le botole di betulla perché non è che mi piacciono tantissimo le botole di betulla le porte si mi piacciono tantissimo però le botole non tanto e ci servono anche delle lastre di betulla ok allora per fare la farm di grano ci serve la redstone e io la redstone la devo andare a scavare ok mi serve la redstone e mi servono anche dei pistoni appiccicosi fa vedere come la devo fare la farm ok mi servono i pistoni appiccicosi dopo i pistoni appiccicosi ok mi servono un po' di cose un po' di materiali e mi sa che allora qui abbiamo gli alberi vabbè vediamo un attimo sì da andare giù in miniera e in questo episodio sarà un po' più lungo perché prendere i materiali farò proprio una cosa carina allora per il momento vabbè sbrighiamoci solamente questo è da fare da sbrigarsi lasciamo qua i materiali a casa e andiamo eh perché mi servirebbe del cibo a dir la verità non ne ho sei bomial possiamo ok possiamo raccogliere uno due tre ok era ok possiamo andare direttamente ok allora allora ne abbiamo tre possiamo fare le pagnotte facciamo super fast quindi dato che abbiamo la barca da queste parti andiamo a prendere la redstone giù nel nel man shaft andiamo direttamente giù ok andiamo giù nel man shaft e andiamo a prendere un po' di redstone dato che bisogna fare dei circuiti di redstone andiamo giù andiamo 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 così da poter le torce non le ho tanto non mi servono non le porto dai andiamo giù poi lascerò giù qualche cesto per per metterci dentro le torce qualche cosa che mi può servire in miniera quindi veloce 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 mi servono veramente pochi pezzettini di redstone andiamo giù e li prendiamo andiamo un po' andiamo un po' di qua no di qua no e ecco forse qua oh c'è dell'oro perfetto c'è del ferro si oro ok abbiamo una spada di ferro quindi possiamo andare ad ammazzare il ok moto ferro ferro e no ok aia no 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 ho mezzo cuore per carità abbi pietà eh sì guardate qua quanti quanti mob prendiamo un po' di pietra velocemente perché ci serve della pietra ok almeno nel caso guardiamo no eh dopo ciò ci ammazzano i mostri che ah sì carità però ok vediamo un po' un po' di roba l'abbiamo presa quindi ok un po' di cose l'abbiamo brava rompiamo qua rompiamo se no ci ok saliamo eccola la redstone trovata no ho mezzo cuore ho mezzo cuore le metti che ci sta qualche zombie qualche cosa metti c'è qualche zombie qualcosa che ci ammazzano no meglio di no allora andiamo no qua no no dobbiamo salire ho trovato il punto dove ci sta la roba ma ma c'ho paura di ho paura che ci sia qualche mostro che ci può uccidere quindi non mi sento proprio in grandissima forma se ho piena vita può essere pure che ci vado quindi attendiamo che ok così dopo tanto dobbiamo risalire da da di qua tanto bisogna risalire qua e ritorniamo a casa si era di qua che dobbiamo salire quindi riscendiamo di nuovo quindi eccolo là lo zombie lo scheletro ok andiamo alla cieca via lo scheletro non ci farà del male eeeh di qui si eeeh di qui possiamo scendere giù 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 e ancora e ancora e possiamo prendere questa poca redstone ma ce ne serve veramente poca che ci ha dato nulla ci serve il piccone di ferro maledizione ci serve il piccone di ferro che non ho eeeh mannaggiammi non ho ok posso fare tutta adesso a vola al fly ok tutto tipo allo stravolo allo strafly allora no ok abbiamo una fonte di luce meno male ok abbiamo dieci pezzettini quindi eeeh piazziamo la mettiamo i dieci pezzettini proprio precisi precisi qui mettiamo questo qua e andiamo a forgiare oh almeno abbiamo un po' di luce ok tipo allo strafly anzi si ce l'ho ce l'ho pezzettini di legno eeeh stanno tipo gli ok eeeh no ok abbiamo tre pezzettini eeeh oddio non ho più blocchi di legno ok ok abbiamo i blocchettini di legno quindi possiamo fare degli stick al fly proprio tre e due almeno possiamo fare col piccone di ferro e dovrebbe potersi raccogliere ho cinque pezzettini e altri cinque pezzettini credo che bastino fatemi controllare un attimo se bastano in realtà ne serve eeeh vabbè prendiamone un altro po' mettite caso mettete caso che vabbè ci sia la lava ma non c'è un pezzettino l'abbiamo preso male quindi ci dovrebbe essere altra roba altra redstone qui che da qualche parte intanto noi andiamo su torniamo su almeno possiamo direttamente scoprire se serve altra roba eeeh si in realtà servono altre cose però al momento voglio eeeh si la farm di grano mi serve assolutamente quindi devo andare assolutamente a prendere cose mi torniamo su eeeh aspettate non ci si vede una beata niente quindi torniamo su ok ci si vede adesso ok quindi saliamo 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 e ritorniamo ok quindi andiamo di qui andiamo di qui ok andiamo di qui che abbiamo lasciato tutto quanto eeeh di sotto qua no mi sa di si che dobbiamo tornare sotto qua di qua dritti 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 da dove venivamo non mi ricordo quindi andiamo di qua sensazione no non c'è più nulla saliamo 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 eh eh no quindi saliamo qui eeeh no c'ho la mia zappa la mia ascia di pietra mi possiamo spaccare dove eravamo aspettate un attimo che mi sono ok ecco ci eravamo di qui quindi andiamo a vedere da dove eravamo quindi eh ammazziamo sto creeper velocemente ok c'è altra maledetto quindi abbiamo altro quindi da prendere ok abbiamo altro ok quindi andiamo di qui andiamo di qui oh altra redstone un'altra redstone dai almeno possiamo fare sicuramente qualcosa 57 cosa no ho spaccato la la torcia quindi qui togliamo andiamo qui a vedere no non c'è più nulla altro ferro si del ferro del ferro del ferro via del ferro via 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 prendiamo il ferro che ci serve per fare la tasta alla natura no mannaggia ok quindi ferro ok anzi tappiamo non si sa mai che viene voglia di cascare giù allora adesso andiamo a vedere di qui torniamo a casa quindi ok vengo da di qua da di qua ok mi sono ritrovato la strada risalgo e no mi sa di ah no mi sa di sì eccoci da dove venivamo e altro po' no mannaggia miseria no quindi di qui e non c'è niente vediamo da altre parti di qua no di qua eccoci eccoci di qua di qua di qua e ci siamo ora possiamo salire andiamo un po' anzi andiamo a vedere ah no su 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 andiamo qui allora il blocco il pistone di ok allora la roba con la redstone serve ben poco vediamo un pochetto allora serve un allora ripetitore di pietra rossa ripetitore serve un di come craftare il ripetitore di pietra rossa ehm come costruire un ripetitore di pietra pietra rossa un ripetitore di pietra rossa vediamo ok perfetto il ripetitore di pietra rossa ci servirà ok possiamo prendere le nostre bellissime torce di pietra rossa ce ne servono due ok della pietra quindi pietra uno e due e un blocco ok non mi serve pietra proprio è una pietra cotta mi sa ok facciamo così vediamo un po' ma servono due pezzettini mi sa che questa pietra non va bene quindi andiamo su anzi questa qua facciamo prendere indiettamente questa ci serve intanto uno uno solo dai ok prendiamo un po' se la pietra questa che abbiamo appena preso il pietrisco il pietrisco si se possiamo lavorarlo vediamo può essere di sì che credo che questa pietra vada bene pietra sì questa qua eccola qua la pietra proprio possiamo prendere quattro pietra altro carbone carbone di qui carbone di lì quindi prendiamo qua il carbone ok allora stiamo lavorando ok abbiamo preso oh perfettamente ok quindi uno al centro due di qua in questo modo e olè ripetitore ripetitore di redstone ce ne servono più di uno quindi togliamo qua un attimo saliamo 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 della legna altra legna che ci serve sicuramente altra legna indirno salire quindi andiamo via andiamo di qua andiamo a mettere il primo impetitore qui questa pietra deve essere oddio manzano non mi ricordavo di avere mangiamo ok almeno recuperiamo la vita e mettiamo la pietra qui e anche il legno andiamo intanto a spaccare altri alberi che ci serve la legna che ne abbiamo bisogno e non bisogno di più perché ci serve anche allora andiamo a prendere andiamo a fare anche a prendere altra pietra così possiamo fare al volo un po di di fornaci almeno possiamo ampliare abbiamo la zona qui se ci mettiamo con i fornaci ok vediamo un po si si bastano bastano credo di si forgiamo altro ok prendiamo legna la mettiamo altri 40 blocchi di legna ci facciamo due fornaci 1 e 2 li mettiamo qua e con la legna prendiamo 10 pezzettini ci facciamo gli stick con gli stick possiamo farci 8 ok quindi andiamo a prendere altro ascia di pietra altro legno prende un'altra legna andiamo 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 un altro legno ci serve sicuro perché mi si serve per per le infornaci ok ok 64 ci servono tanti in questo episodio stiamo costruendo la farm di grano così almeno possiamo avere il grano più velocemente e mangiamo più prima mangiamo più velocemente quindi facciamo ecco qui andiamo a piantare al volo l'albero lo piantiamo di nuovo qua bisogna togliere qui vediamo qua la roba quindi togliamo qua le cose spacchiamo l'ascia ok e poi altro ok i 12 il mettiamo dentro la fornace almeno possiamo cuocere più velocemente e ne mettiamo un pochettino meno ok vediamo che cosa vediamo un attimo ci avevo ok 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 e ogni sono 12 quindi diamo un altro ancora ora qui abbiamo altro legno altro legno messo poi ci serve un pistone allora ci servono ci servono ci servono ci servono 1 2 3 4 e 5 redstone quindi andiamo a prenderne altri nel prossimo episodio continuiamo sempre a costruire se no gli episodi vengono tipo lunghi mezz'ora nel prossimo episodio continuiamo sempre a cercare le cose per costruire la farm di di grano al prossimo episodio